Ed ecco così, queste cose qua, questo effetto obitorio, portiamo via la mamma, ecco, bravi. È morta dieci giorni fa. È morta dieci giorni fa, ma porca miseria. Era brava, è stata una mia studentessa. Al cimitero, al cimitero. Abbiamo più una torta da qui, una prospettiva da qui è straordinaria. Giù da un ponte. Mi sta tornando a scaricare. Eh sì, adesso ti dobbiamo scaricare sottoterra, un secondo. Andiamo a fare la buca. Non so i loro nomi, però comunque ci capiamo. Noi non abbiamo bisogno di nomi. Ci chiameremo con delle sigle. X-I-Z-K-N-I-K-E-P-R-T-N-I. Signora Cagoschi. Signora Cagoschi? Ah, guarda qua, guarda qua. Portiamo via la salma. Era. Adà. Grazie a tutti.